dice no, è il crollo dell'euro, è tutto il terrorismo psicologico però i mercati, sai meglio di me, sono ipersensibili, non solo l'imprenditore ma l'investitore, chi produce ricchezza si preoccupa di queste cose molto di più che del coma 4, articolo 3, allora che cosa accade? io la vedo così e spero di non sbagliarla, non c'è dubbio che anche per le interferenze internazionali, è stato citato l'ambasciatore Phillips, la stessa Merkel in modo indiretto ha caldeggiato l'approvazione, non c'è dubbio che se vince il no un po' di turbolenza il giorno dopo c'è sul mercato, perché? perché nonostante tutto il grande paese boccia il governo in carica, ma tutto lì, poi non succede null'altro, perché? Renzi è chiaro che si deve dimettere è partito dicendo cessa la mia carriera politica, adesso dice valuterò se è un futuro più ero segno di dimissione, l'uomo è molto spingiudicato ma si dovrà dimettere proprio perché il capo dello Stato che la Costituzione ha la mano, verifica se in questo Parlamento c'è o non c'è una maggioranza per mandare avanti la legislatura nulla osta che lo stesso Renzi abbia di nuovo l'incarico, se lo accetta, con un punto essenziale che è una legge elettorale che consenta all'Italia di andare a votare magari anche due mesi dopo, tre mesi dopo, non è che deve andare per forza nel 2018, si può votare anche a maggio, giugno del 2017 andare a votare con ragionevoli motivi di pensare che la legge elettorale ti garantisce la governabilità perché il rischio è quello della Spagna, di votare tre volte in un anno, se non nasce un governo è certezza perché noi andremo a votare con il Senato che eleggerebbe i senatori con quello che residua della legge elettorale dopo le censure della Corte Costituzionale non ci sarebbe più l'Italicum perché l'Italicum sapete che entra in vigore solo con la nuova Costituzione ma andremo a votare con quel che residua del Porcellum dopo avremo una maggioranza alla Camera e una maggioranza al Senato come questo lo sanno tutti, nasce un governo di scopo che fa una legge elettorale e la legge elettorale magari garantisce davvero la governabilità garantendo però anche la rappresentatività perché questa è una delle grandi questioni della democrazia governabilità è un bene perché devi decidere in tempi brevi perché una democrazia che non decide apre la strada in qualche modo delle avventure ma deve essere anche rappresentativo il Parlamento che decide perché se non lo è, non esiste una legge elettorale perfetta per cui porgnuno ha le proprie idee alla luce dell'esperienza, dipendesse da me, io tornerei ai collegi unilunali perché è il rapporto diretto tra il cittadino e l'elettore perché una volta che i collegi sono piccoli e consenti al candidato di farsi conoscere non avresti i paracadutisti perché provano a mandare a Lodi uno di Crotone o è uno veramente molto bravo o non lo elettano quindi in qualche modo garantisci governabilità ma anche rappresentatività del territorio ma questo è soltanto il motivo